Difficile trovare un sorriso questa sera? Molto difficile, sì, è una grande delusione. Due settimane consecutive, lo stesso risultato, è difficile da mandare giù. Dobbiamo imparare molto da queste ultime due settimane su come finire le partite e come gestirle. In conferenza stampa a Crowley il capitano ha detto che è l'approccio che è sbagliato. Sì, sicuramente è stato un inizio di partita dove non abbiamo imposto bene il nostro gioco, come ci eravamo detti in settimana. E questo è stato un po' l'andamento della partita. Segnavamo, ci rimettevano sotto pressione e così non riusci a portare a casa le partite. Facendo un paragone con la partita dello scorso anno, la pressione era meno lo scorso anno secondo me. Giocate con più tranquillità, con più serenità. Quest'anno la si sente un po' la pressione? Sì, sicuramente giocare da, tra virgolette, favoriti è una cosa alla quale non siamo abituati. Però dobbiamo cominciare a prendere coscienza, a prendere fiducia nei nostri mezzi e volerci imporre fin dall'inizio, fin dal calcio d'inizio. Perché solo così possiamo riuscire a portare a casa le partite. Lavorare? Sempre, tantissimo. A testa bassa e lavorare duro sempre. Grazie a tutti.